Ben trovati con la settimana di Icaro Tg, iniziamo questo nostro appuntamento con la notizia che ha scosso tutta l'Italia, parliamo della tragedia di Milano dove un imputato ha ucciso a colpi di pistola tre persone, un avvocato, un giudice e il suo co-imputato. A scosso l'Italia abbiamo detto in particolar modo il mondo giudiziario. Anche a Rimini, come in tutti i palazzi di giustizia, sono state poi misure di sicurezze più rigide contro il rischio di emulazione. La Presidente del Tribunale di Rimini, Rossella Taglia, invita a una seria riflessione sulle necessità che ha oggi il presidio di luoghi dove si riversano tensioni sempre più forti e lamenta come a Rimini la mancanza di un metal detector sia stata vissuta con indifferenza. Ascoltiamola. Una situazione indubbiamente grave, non del tutto imprevedibile, in quanto i tribunali oggi raccolgono le tensioni, tensioni nella materia fallimentare, tensioni nella materia della famiglia, tensioni in genere e in molti casi noi raccogliamo veramente delle persone che diventano disperate perché qui penso che sia un po' riduttivo parlare semplicemente di follia. A Milano la sicurezza c'è perché io che sono andata a Milano sono stata controllata, fermata per 5 minuti, quindi i presidi di sicurezza ci sono. E' chiaro che qualcosa non ha funzionato, allora bisogna intervenire senz'altro con la sicurezza, bisogna innanzitutto restituire credibilità alle istituzioni, questa campagna di delegittimazione, questa campagna dove molte volte si cavalcano delle mode, ce ne sono tante in questi settori, anche da parte della stampa, non fanno bene a nessuno. I presidi di sicurezza ci devono essere e devono essere utilizzati seriamente, così come avviene negli aeroporti. Questo però il presidio di sicurezza implica un tempo superiore che molte volte i professionisti non hanno piacere che ci sia e quant'altro. A Rimini da domani verranno rafforzati i presidi di sicurezza proprio per evitare gli effetti emulativi e nello stesso tempo ci stava già cercando di organizzare per avere il metal detector, cosa chiesta da 10 anni, fa parte di una variante del Palazzo di Giustizia, non si è ottenuta, la spesa non era neanche elevata perché era 90 mila Euro all'epoca, parte della prima variante mai eseguita, però evidentemente interessa poco a tutti, che non è una spesa eccessiva, che volendo anche gli avvocati si sentono poco sicuri e si può anche fare una colletta anche in attesa che arrivino questi fondi che ormai sembra che non arrivino più perché da 10 anni a questa parte penso che ci siano poche speranze. Immediatamente è stato convocato anche a Rimini il tavolo di sicurezza urgente, convocato appunto dal prefetto, fuori dal tribunale poi le pattuglie di carabinieri e polizia, però sentiamo anche la presidente dell'ordine degli avvocati di Rimini, Giovanna Hollà, proprio sul sentimento di questi giorni. A Rimini diciamo che episodi così gravi fortunatamente non se ne sono verificate, in anni passati è accaduto che alcuni avvocati sono stati aggrediti da clienti nell'ambito del tribunale in prossimità delle aule di giustizia, casi non gravissimi che però sicuramente hanno creato allarme. Il problema dell'ingresso e soprattutto l'ingresso con armi, facendo riferimento ai tragicissimi episodi di Milano, è sicuramente un problema che a Rimini c'è, perché è evidente che la forma di prevenzione più sicura ma anche più scontata sia il metal detector che rileva sicuramente la presenza di oggetti metallici addosso alle persone. A Rimini non ce lo abbiamo, quindi credo che dobbiamo partire da questo dato. È un'esigenza che sicuramente si era sentita perché, ripeto, ci sono stati episodi di aggressione, ci sono avvocati che sono vittime di clienti perché molte volte, anche quando l'avvocato svolge correttamente il proprio compito, il cliente non riesce magari anche in buona fede se vogliamo comprendere che il mancato raggiungimento di un risultato non è colpa di un addempimento del professionista. Quindi sono situazioni di tensione che esistono, che ci sono, che conosciamo, che ogni di noi può capitare che si trovi a vivere e che sicuramente devono essere prevenute nel rischio di situazioni gravissime come quelle che si sono verificate a Milano. E pertanto credo che sicuramente il presidio di sicurezza a Rimini debba esserci e debba essere potenziato anche perché siamo un tribunale con un contenzioso grande, con un contenzioso importante, anche con un contenzioso penale rilevante dove magari si possono verificare situazioni di ulteriore maggiore tensione. Si è parlato anche di una possibile colletta? Ma allora, la colletta si è parlato, non ne hanno parlato gli avvocati sicuramente, la colletta per economica, ovviamente immagino per un presidio di sicurezza, io credo che non spetti agli avvocati. La tutela all'interno di un presidio legale come è un tribunale è ovviamente una tutela che spetta a tutti i cittadini e che quindi credo che siano gli organismi dello Stato a doversene preoccupare e a doversene doverosamente preoccupare, visti i fatti di Milano, visti i fatti che sono accaduti anni addietro in altri tribunali, ricordiamo i morti che ci sono stati anche a Reggio Emilia, e quelli che potenzialmente possono avvenire in ogni palazzo di giustizia, dove purtroppo noi raccogliamo e viviamo le storie del dolore delle persone. Uomini soli e famiglie sofferenti, questo è il titolo del rapporto sulle povertà della Caritas presentato questa mattina nella sede di Via Madonna della Scala. La domanda è quando finirà la crisi? Vediamo. I numeri presentati questa mattina in Caritas confermano purtroppo la tendenza degli ultimi anni. Crescono gli italiani in difficoltà, aumentano i problemi delle famiglie e calano gli stranieri che si rivolgono alla Caritas, ma solo perché molti hanno intrapreso il viaggio di ritorno in patria o si sono spostati in altre città in cerca di fortuna. Sono 7.000 le persone incontrate dalle Caritas diocesane, 400 in meno, 986 dalla capanna di Betlemme, 90 in meno rispetto agli anni scorsi, in aumento, come detto gli italiani, più 16% in Caritas, più 6% alla mensa dei frati e più 4% alla capanna di Betlemme. Persone che fino a pochi anni fa vivevano un'esistenza serena, sono oggi costrette a chiedere aiuto per mangiare, per pagare le bollette o l'affitto. Di fronte alla contrapposizione della diminuzione delle persone sono invece aumentati gli interventi. La Caritas ha fatto 13.000 pasti in più nel 2014, oltre 96.000 pasti. Anche la mensa dei frati ne ha fatti 4.000 in più rispetto all'anno precedente. Quindi dappertutto le richieste sono incessanti. Un esempio eclatante è quello della richiesta per aiuti per le bollette, per i pagamenti dei farmaci e per vari tipi di sussidi. Perché in un anno abbiamo donato a fondo perduto 100.000 euro e anche l'associazione Famiglie Insieme, che invece eroga prestiti, ne ha dati 444.000 a 491 famiglie. Per cui la richiesta incessante economica, spicciola di materie prime, comunque di aiuto, questa c'è. Nonostante la diminuzione delle persone, le richieste sono aumentate. A molti bisogni possono dare risposta solo alle istituzioni. E quindi in questo senso anche il nostro impegno civile deve essere forte, preciso, chiaro, stimolante in continuazione. Ci sono poi dei gesti, delle azioni, delle condivisioni che dobbiamo fare a livello personale. Ad esempio io sono molto contento di vedere che anche privati e aziende, oltre a parrocchie, a Caritas Diocesana, a Diocesi, eccetera, si sono impegnati sul fondo lavoro. Perché significa che tutti comprendiamo che le cause vanno aggredite alla radice. L'assistenza è necessaria, ma la solidarietà ha bisogno di aggredire le cause. Una notizia anche di cronaca. Sette arresti per l'associazione delinquere finalizzata alla commissione di rapine in esercizi commerciali, furti in abitazione e ricettazione. Il risultato dell'operazione Black Car, effettuata dalla squadra mobile di Rimini, all'operazione hanno collaborato anche le questure di Brindisi, Ancona e Dasti. Erano specializzati in rapine in appartamenti e supermercati, sette arrestati dalla squadra mobile di Rimini. L'operazione Black Car prende il nome dall'autoscura che ha dato il via alle indagini e che ha portato allo smantellamento di due bande di rapinatori. Tre degli arrestati sono originari di Brindisi, uno di Iesi, uno di Forlì e due di Rimini. Il più giovane ha 30 anni, il più anziano 69. L'obbligo di dimora, invece, è per una 28enne riminese. I fatti prendono il via contro i rapini armati in altrettanti supermercati riminesi tra ottobre e novembre 2013, tutte inizialmente risolte e compiute con le stesse modalità, due persone armate con accento meridionale che puntavano la pistola al cassiere per poi fuggire con il bottino. Nell'ultima, al Conad di Via Coletti, un passante ha preso la targa di un'auto che era fuori dal supermercato, una Fiat Punto risultata di proprietà della madre, di un trentenne riminese, Marco Mangianti, poi arrestato. Si è così iniziato a indagare su di lui e sulle sue frequentazioni. Un'auto che apparentemente non diceva nulla, un'auto che veniva a allontanarsi, delle targhe provento di furto sicuramente utilizzate su quest'auto, quindi un'auto senza un nome ed un cognome. Sono stati una serie di elementi che poi messi insieme col tempo ci hanno permesso di ricostruire interamente il puzzle. Mangianti viene pedinato e all'indomani dell'ultima rapina porta gli agenti nel centro commerciale Le Befane che lo riprendono mentre si incontra con alcune persone, due delle quali arrivate su una Fiat Punto Nera. Mente del gruppo sembra essere Roberto De Paola, brindisino 35enne residente in un campo nomade di Rimini, il quale insieme a Mangianti ha messo insieme un gruppo di malviventi, tutti già noti alle forze dell'ordine, che dal 2013 hanno messo a segno quattro rapine in supermercati e 13 colpi in appartamenti, oltre ad aver assaltato un ufficio postale a Caselle Torinese. Documentati anche i legami della banda riminese con un gruppo criminale formato da brindisini arrestati a Forlì il 16 novembre del 2013. È stata un'indagine dinamica, ricca di evoluzioni, ricca di sorprese. Nell'ambito della nostra attività ci siamo imbattuti in un secondo gruppo criminale che stava salendo su da brindisi per portare a compimento una rapina, un gruppo che abbiamo fermato in provincia di Forlì. Il nostro gruppo criminale invece è stato smantellato a Torino in flagranze di reato, mentre portava a compimento una rapina in un ufficio postale. Cambiamo argomento, adesso parliamo di un parco urbano di 300 ettari dedicato al benessere. Questo è il disegno del nuovo lungomare di Rimini pensato dal piano strategico. Il presidente Maurizio Ermenti ne ha svelato i particolari sul sito Rimini Venture 2027. Intanto martedì il sindaco Gnassi è andato in missione a Bologna in vista proprio dei bandi attesi per la primavera. Vediamo il servizio e poi l'intervista al sindaco. Non un semplice abbellimento del lungomare come quelli già realizzati a Riccione o Misano, ma un vero e proprio intervento per riposizionare Rimini sul mercato turistico internazionale e raggiungere nuovi target. Questo, secondo il presidente di Rimini Venture, Maurizio Ermenti, dovrebbe essere il parco del mare, nome che il piano strategico ha attribuito al restyling del lungomare. Ermenti parla di un progetto di integrazione tra ambiente, funzioni e servizi, capace di coinvolgere la spiaggia, i lungomari, il comparto alberghiero e i servizi al turismo. La risposta di Rimini al turismo globalizzato non passa da edifici avveniristici, il riferimento implicito ai project cassati, ma dal benessere, un parco urbano di 300 ettari, da Torre Pedrera a Miramare, con 20 chilometri di percorsi per attività fisiche, 15 di passeggiata, fronte mare, di piste ciclabili, palestre all'aria aperta, centri benessere, bar e ristoranti. Per trasformare i rendering, in realtà, per Ermenti occorre attuare uno sforzo comune che coinvolga i privati e anche l'amministrazione, chiamata ad adottare procedure che favoriscano la libertà di interpretazione dei progetti privati e gli investimenti, senza perdere di vista l'obiettivo finale del progetto. Intanto, in attesa della sdemanializzazione del triangolone tra i piazzali Fellini e Boscovici, oggi pomeriggio il sindaco Gnassi è andato a Bologna per definire con la Regione l'accordo di programma propedeutico alla redazione dei bandi per il lungomare, che saranno pubblicati entro la primavera, un accordo che permetterà al comune di agganciare i finanziamenti europei per la riqualificazione urbana. Abbiamo appena avuto un ulteriore incontro con la Regione, nel giro di qualche mese usciranno i bandi per rifare i nostri lungomari. I nostri lungomari sono forti, sono potenti, c'è una bella spiaggia larga, abbiamo servizi, ma nel mondo non puoi stare fermo. E quindi, se io sono un tedesco che ormai viaggia con le auto elettriche dalla sua parte, o un americano che vuol vedere malatesta la cultura e respirare aria pulita di fronte al mare, devo avere la forza di cambiare i nostri lungomare. Via le auto, via il cemento, le palestre a cielo aperto, tra due mesi butteremo, virgolette, fuori i bandi in accordo con la Regione per dare la possibilità ai privati di manifestare il loro interesse ad intervenire. Dove c'è oggi, come dire, una piccola autostrada in riva al mare, noi vorremmo che ci fosse un parco del mare, con parcheggi di attestamento là dove è possibile nella zona nord, a Monte della Ferrovia, penso a Torre Pedrera, a Viserba, a Viserbella, a Riva Bella. In fondo, dalla ferrovia al mare ci sono piccoli violetti che riqualificati possono portarti in un parco del mare, alla zona che va dal porto canale a Miramare, dove abbiamo deciso di intervenire, come dire, in un rapporto virtuoso con gli operatori, stralcio per stralcio, parte per parte, quindi dal porto alla Rotonda, dalla Rotonda a Piazza delle Kennedy, da Kennedy fino via via a Miramare. Noi siamo convinti che progetti seri, fatti col privato, possono conquistare risorse che possono venire dalla Regione, da, mi auguro, il Governo italiano che deve guardare al turismo come settore produttivo, non dell'effimero, e anche dalla comunità europea. E da un progetto, si spera, spendibile in futuro, parliamo invece adesso di un progetto in corso, stiamo parlando dei grandi contenitori culturali nel centro storico di Rimini, quello in fase più avanzata è il Fulgor, che potrebbe essere completato già per la primavera del prossimo anno. Oggi, in questi giorni, il Sindaco e l'Assessore alla Cultura hanno accompagnato la stampa in visita proprio al cantiere. Partiamo dalle date. Se non ci saranno intoppi, l'auspicio è arrivare alla prima proiezione nella primavera del 2016, forse a marzo. I lavori per trasformare il Fulgor nella Casa del Cinema e di Fellini hanno subito alcuni ritardi legati ai ritrovamenti archeologici rinvenuti negli scavi, mosaici di cui uno sarà asportato e restaurato, una domus e ben 57 sepolture. Entro pochi giorni i lavori di scavo termineranno e ripartirà così il cantiere, che sarà completato entro l'estate. I due terzi degli interventi sono tra l'altro già stati eseguiti. Poi toccherà agli interni, ai restauri progettati dall'architetto Matteini e alle scenografie disegnate dal premio Oscar Dante Ferretti. A lavori terminati, il costo complessivo è di 5,2 milioni di euro, il Fulgor ospiterà due sale al piano terra, una da 158 posti e l'altra da 52, la cineteca al primo piano e un centro studi dedicato a Fellini. Cercheremo di rispettare il più possibile, ovviamente compatibilmente con questo ritardo avvenuto, il cronoprogramma. E poi già incominciamo ovviamente a pensare qui un centro studi e la prima tappa di un percorso legato alla riseminazione della poetica di Fellini all'interno della città. Questo è solo uno dei luoghi che Fellini avrà e che Rimini avrà da dare al mondo. Avremo un quadrante della cultura e delle arti che poche città potranno avere. Noi vogliamo entrare e saremo nel rango delle grandi città d'arte italiane, perché basta voltare lo sguardo e abbiamo il rinascimento di Sigismondo Pandolfo Malatesta, di Piero della Francesca, il teatro inaugurato da una primaverdiana, Galli, che è un altro cantiere, tra il teatro e il Castello Malatesta, un'arena dedicata alle arti, dietro la nuova, come dire, giardino del Palazzo del Comune e poi qui di fianco Piazzetta San Martino e Fellini. L'ambizione è quella nei prossimi anni di aumentare, perché no, di 500.000 presenze e magari di arrivi stranieri grazie a questo quadrante. 500.000 presenze in più daranno davvero centinaia e migliaia di posti di lavoro in più. E in chiusura facciamo un passo indietro, perché torniamo a lunedì di Pasquetta, quando dopo una domenica di Pasqua sotto la pioggia invece è tornato il sole e si è conclusa la 25esima edizione del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, evento ormai classico della Pasqua riminese. Vediamo il servizio. L'ombrellone del Paganello vola oltreoceano. Vincono la 25esima edizione gli statunitensi Revolver, che hanno superato nella finalissima Open gli inglesi UTI, con il punteggio di 13 a 12. Medaglia di bronzo per il Team All Stars e Sex Expensive, quinto posto per i ragazzi del Cotarica, primi tra le formazioni riminesi. La finale è stata aperta dal lancio da parte del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, del disco ufficiale del Paganello 2015, realizzato in materiale plastico ottenuto da polimeri naturali, realizzato ad Eurodisc. Ieri il maltempo, che ha caratterizzato il fine settimana pasquale senza tuttavia compromettere l'andamento della World Beach Ultimate Cup, ha dato tregua. Sole e tribune finalmente gremite hanno fatto da cornice sulla spiaggia di Marina Lido alla giornata dedicata alle finali. E c'è stata gloria anche per le padrone di casa tequila Boom Boom, che si sono imposte tra le donne, domando in finale le tedesche, ECU per 13 a 6. Nella categoria junior, vittoria la formazione belga Wannabeaz. Quarto e quinto posto rispettivamente per i giovani riminesi Gremlins junior e Cotafever junior. Il torneo mixed agli statunitensi Horned Melons. Il premio per lo spirito del gioco, assegnato direttamente dagli atleti alle squadre che meglio hanno espresso lo spirito dell'Ultimate, è andato nella categoria junior ai Flydown, nel mixed agli svizzeri Pirates, tra le donne alle svedesi Helsinki Camels e nella categoria open ai bolognesi Red Bulls 1. E questo era l'ultimo servizio, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, vi ricordo anche che ci trovate sul nostro sito per aggiornamenti e tutte le informazioni newsrimini.it Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.